Sono 6.398 i posti disponibili per l'anno scolastico 2013-2014 in tutta Italia per essere ammessi ai corsi di specializzazione come insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Corsi che si terranno nelle università. La loro attivazione è stata autorizzata dal Ministero dell'Istruzione lo scorso 9 agosto con un decreto che ne ha definito la ripartizione per i vari ordini di scuola e tra gli atenei. Le modalità per iscriversi saranno definite dalle singole università e i corsi sono riservati solo ai docenti già abilitati. Nella nostra regione sono organizzati quindi dall'Università del Molise, ha fatto sapere il segretario regionale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL, Sergio Sorella. 200 i posti attivati dunque per conseguire la specializzazione come insegnante di sostegno e sono così ripartiti. 35 per la scuola dell'infanzia, 65 per quella primaria, cioè le elementari, 35 per la secondaria di primo grado, quindi le medie, e 65 per la secondaria di secondo grado, le superiori. Così dunque in Molise e gli aspiranti dovranno attendere il bando dell'università. È prevista una prova di accesso con un test preliminare, una o più prove scritte o pratiche e una orale, e la valutazione di eventuali titoli culturali e professionali che possono dare fino a un massimo di 10 punti. I posti autorizzati, ha evidenziato la CGL, risultano inferiori al fabbisogno calcolato dal Ministero. A fronte di tanti docenti, con l'abilitazione necessaria, ha detto Sergio Sorella, aprire subito il confronto per un sistema di reclutamento che, garantendo i diritti acquisiti a concluso, offre ai tanti precari in attesa da anni la possibilità di lavoro e di stabilizzazione, evitando di alimentare solo illusioni.